ciao a tutti oggi vi propongo un rituale per la ricchezza e l'abbondanza questo rituale si fa in luna crescente o di giovedì o di domenica se lo fate di giovedì candele verdi se lo fate di domenica candele gialle per fare questo rituale vi serviranno un pezzo di carta da pane oppure un pezzo di carta bianco si è quadrato due candeline verdi una coppa o di vetro di legno una penna nera fiammiferi per accendere le candele un contenitore grazioso in vetro acqua di luna o acqua santa scelta due piattini per appoggiare le candele potete usare anche i tappi dei barattoli io in questo caso hanno scelto uno argento e un oro visto che si parla di ricchezza secondo me ci stavano bene un incenso al alla cannella e 10 monettine d'oro va benissimo dorate man benissimo i centesimi allora prima di tutto si accende l'incenso che non ho ancora fatto dopo di che prendete il foglio di carta ci disegnate un cerchio in senso orario in questo caso l'ho già disegnato per accelerare un po i tempi poi posizionate la coppa nel centro e due candele una destra e una sinistra accendete le due candele fiammiferi di legno prendete la brocca versate l'acqua nella coppa dicendo le mie tasche si riempiono i soldi arrivano tanto veloce come si riempie questa questa coppa prendete le monetine e le mettete nell'acqua auguro salute auguro successo auguro felicità auguro oro auguro argento auguro abbondanza auguro aiuto auguro denaro auguro ricchezza auguro tutto questo e così sia questo punto lasciate che le candele si consumano io adesso andrò avanti per velocizzare il video giustamente una volta che le candele si sono consumate i resti li rendete alla natura che c'era naturale l'acqua la date a una pianta possibilmente una crassola che l'albero dei soldi se vedete diamo l'acqua la pianta prendete un tovagliolino di carta bianco senza fiorellini farfalline quant'altro ci mettete delicatamente dentro le monete un po troppo acqua le asciugate dedicatamente le mettete nel piattino grazioso che ve l'avate già preparati prima questo piattino lo posizionerete a sud est in casa vostra oppure nel posto dove vedete i vostri ori vostri argenti le cose di valore di casa lo posizionate te non so questo mobiletto dove volete io lo lascerei a vista anche grazioso da vedere passa il tempo giustamente si impolvera perché non va tenuto coperto a quel punto cosa fate prendete un un tovagliolino ce le mettete dentro pulite il il contenitore a quel punto cosa fate ripetete la stessa le stesse parole della volta in cui avete fatto il rito auguro salute auguro successo auguro felicità auguro oro auguro argento auguro abbondanza auguro aiuto auguro denaro auguro ricchezza auguro tutto questo e così sia il rito è concluso bacio a tutti ciao